Fumava mentre era alla guida in macchina, con lui il figlio di tre anni seduto senza cinture di sicurezza e senza essere assicurato al seggiolino. L'auto su cui si muoveva questo papà è stata fermata in serata a Codevigo durante i controlli della polizia stradale. A bordo, oltre al conducente, il figlio piccolo e altre quattro persone tutte senza cinture. L'aria all'interno era irrespirabile, c'erano pacchi ammassati ovunque e fumo denso. L'uomo di nazionalità romena è stato multato e dovrà pagare una sanzione di quasi 500 euro. La guida di un fumatore non è sanzionata dal codice della strada, ma come per l'uso del cellulare, può essere meno attenta e reattiva e soprattutto, come in questo caso, può produrre danni alla salute del bimbo. Il conducente, in questo caso, è stato multato per aver fumato in presenza del figlio piccolo e per averlo esposto al rischio elevato, facendolo viaggiare senza essere seduto e assicurato nell'apposito seggiolino.